La nuova truffa si chiama truffa dell'ascito ereditario. Vittime predilette sono sempre gli anziani. I carabinieri di Bassano sono riusciti a denunciare per truffa aggravata in concorso due messinesi di 50 e 76 anni che hanno fatto cadere nella loro rete una donna di 88 anni di Bassano e un settantenne di Montorso Vicentino impossessandosi di una cosa come 5.000 euro. Si tratta di personaggi senza scrupoli che fermano per strada persone anziane convincendole che ci sia un fantomatico lascito ereditario di una personalità abbiente del territorio e che per potervi accedere, poiché è destinato da sua disposizione a persone bisognose della città servono alcune migliaia di euro per poter perfezionare la pratica del notario. È una pratica molto sottile dove ci sono più attori che intervengono circuendo la persona anziana e portandola a fare un prelievo sostanzioso presso il proprio sportello bancario. Dopodiché con una scusa che può essere l'acquisto di una marca da bollo piuttosto che la fotocopia del documento di identità si allontanano repentinamente con la somma appena sottratta truffaldinamente. Sono soprattutto gli anziani che sono vittime, vittime non soltanto di questo genere di truffa però truffe online e quant'altro sono all'ordine del giorno. Sono vittime di queste truffe, di richieste di accesso in casa con le scuse più disparate. Bisogna assolutamente dubitare di chi vuole accedere al nostro domicilio senza preventivo appuntamento e senza alcuna autorizzazione. Nel dubbio contattare i numeri di emergenza per richiedere l'intervento di una nostra pattuglia. Relativamente alle truffe online invece è d'obbligo la massima prudenza specialmente nel caso in cui si tratti di pagamenti effettuati in maniera non sicura. Nel dubbio contattare i numeri di 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 numeri.